Allora uccellini, mi serve acquistare scarpe per andare una festa Certo, andiamo in negozi, in negozi al centro Ok, andiamo Si va, in negozi al centro Che tipo di scarpe ti serve? Hmm, scarpe con le tacchi a spillo Oppure, e poi, scarpe tacchi E poi, poi, le scarpe valerine E poi ci sono, le ciabatte Le ciabatte Ci sono le scarpe sportive Nike Per favore Per favore, voglio acquistare un paio di scarpe Nike Quanto costa? Sono 70 euro, è costoso Hmm Durante l'estate, usiamo gel Usiamo gel Sandali, sandali Mentre tua, mia mamma Durante inverno Utilizza Stivali Mentre In ospedale I zoccoli Un paio di scarpe Certo Volentieri Re Non undi Quanto速 Tutto Fotow Tres Tres Tutto Tres Certo Tres Grazie a tutti.